I dati diffusi recentemente dall'Istat sull'andamento demografico in Molise rappresentano un campanello d'allarme che non va assolutamente ignorato. Una regione che anche a causa della pandemia registra indicatori in peggioramento. L'ultimo report elaborato dall'Istat certifica infatti l'ennesimo calo demografico che vede la nostra regione al di sotto dei 297 mila residenti con un'età media in aumento. Non solo, le previsioni per il futuro non sono incoraggianti anche per quest'anno probabilmente si perderanno altri 4 mila abitanti per lo più giovani costretti ad emigrare altrove soprattutto per carenza di lavoro e prospettive. Un quadro dunque estremamente preoccupante su quale è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola secondo il quale il trend negativo è un problema che parte da lontano dalla totale assenza di una visione programmatico strategica da parte di chi ha amministrato la cosa pubblica in passato ed è utile ha detto ricordare che che da dieci anni i rappresentanti politici regionali sono praticamente gli stessi nonostante i cambi di casacca pratica assai diffusa in Molise ha denunciato. Oggi più che mai invece bisogna concentrarsi sui fondi della programmazione europea 2021-2027 ed attivare sulle politiche del lavoro, su infrastrutture fisiche e digitali, sanità pubblica, sviluppo sostenibile e su una compatibile transizione ecologica. Inoltre, aggiunto, servono nuovi indirizzi per logistiche e mobilità con treni elettrici non inquinanti, un collegamento con l'autostrada Roma-Napoli, un avio superficie a gestione privatistica per un turismo di qualità ma anche per utilizzi di protezione civile. Servono inoltre connessioni in fibra ottica e ad alta tecnologia. Sono queste priorità essenziali, ha detto, affinché vi siano le condizioni minime per voltare pagina finalmente. Ha aggiunto poi Nola, secondo il quale non va tralasciato l'aspetto dell'attrattività, ma la lotta allo spopolamento a giudizio dell'esponente 5 Stelle passa anche attraverso la valorizzazione e il sostegno del mondo agricolo, di quello dell'agroalimentare. Recovery plan, contratti istituzionali di sviluppo, ZESA Adriatica sono tutte opportunità da sfruttare nei prossimi due anni. Se vogliamo che questa dodicesima legislatura regionale lasci un segno e inneschi una nuova mentalità, ha concluso il consigliere regionale.